Termoli al ballottaggio per scegliere il futuro sindaco tra i due sfidanti, Angelo Sbrocca e Michele Marone, seggio aperti dalle 7 alle 23, affluenza in calo nella prima parte della giornata. Un'altra notte di sangue sulle strade molisane, un ragazzo di 25 anni originario di gamba tesa ha perso la vita schiantandosi con la sua auto sulla statale 162, paese sotto shock. CGL e Will e i comitati bocciano all'unisono il programma operativo che riorganizza la sanità molisana, è un attacco indiscriminato al pubblico, attaccano, da Venafra a Termoli scattano le proteste. Successo per il grande evento conclusivo del concorso televisivo di Molise TV che ha premiato la cantante 14 anni Alessia Notaro, una serata all'insegna del talento di 20 giovani finalisti molisani che hanno intrattenuto il pubblico e tanti ospiti presenti. Ben trovati con l'informazione di Molise TV, come avete sentito dai titoli, in primo piano le amministrative di Termoli, seggi aperti dalle 7 per il turno di ballottaggio. La sfida è tra il candidato di centro-sinistra Angelo Sbrocca e quello di centro-destra Michele Marone. Stasera, dopo lo spoglio che inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, si conoscerà chi tra i due guiderà la città di Termoli nei prossimi 5 anni. Finora piuttosto scarsa l'affluenza alle urne. A mezzogiorno ha votato solo il 18,88% degli aventi diritto rispetto al 20% del primo turno. Ma per capire come sta procedendo la giornata ci colleghiamo telefonicamente con Federico Cosenza. Buongiorno Federico. Buongiorno Samantha, siamo qui a Termoli nel seggio di Via Volturno, sono in compagnia di un presidente di seggio della sezione 14, la signora Pitta Carolina, che ci può spiegare un attimino qual è l'afflusso nella sua sezione. Buongiorno, l'afflusso nella mia sezione è del 12% al momento. Bene, quindi praticamente in Via Volturno la situazione è leggermente più bassa rispetto a quelle che sono le affluenze registrate negli altri seggi della città e quindi questo forse si spiega sicuramente per quella che è la giornata che ci sta qui a Termoli, una giornata di mare, di sole e poi perché il ballottaggio sicuramente ha una fila inferiore rispetto a quello che è stato il primo turno. Certamente, oggi la giornata di sole al momento comunque non ancora riusciamo a raggiungere quello che abbiamo raggiunto nella prima precedentemente, quindi pensiamo che in serata le cose comunque entranno meglio. Ecco, a Campobasso ci sono state tante polemiche, soprattutto per l'elezione del sindaco, ricordiamo fino all'ultimo non si sapeva, qui a Termoli nel primo turno è andato tutto bene, penso che anche, ci incrociamo le dita anche questa volta, dovrebbe andare tutto così. Sì, sì, è andato tutto bene, tutto tranquillo, non ci sono stati problemi, anche oggi la situazione è tranquillissima. Bene, Samantha, se non ci sono domande dallo studio io ti riderei la linea. Bene, grazie Federico, noi riprendiamo la linea, buon lavoro a te che seguirai naturalmente le elezioni a Termoli. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, passiamo alla cronaca, un'altra tragedia, sulle strade molisane dove questa notte ha perso la vita un 25enne di gamba tesa, probabilmente a causa di un sorpasso azzardato. Pasquale Tronca aveva trascorso il sabato sera con gli amici in una delle prime calde serate ai Campobassane e stava tornando a casa a gamba tesa. Erano quasi le due di notte mentre stava percorrendo la strada statale 162 dove forse a causa di un sorpasso azzardato e di un colpo di sonno si è schiantato con il suo maggiolino contro un'altra auto. Un impatto violento e per lui non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento dei sanitari del 118, sul posto anche i carabinieri. Sono invece in prognosi riservate due ragazzi che viaggiavano a bordo dell'altra vettura coinvolta. Un'altra giovane vita spezzata che si aggiunge all'unco elenco delle vittime che ogni anno si registrano sulle strade molisane. E sotto shock gamba tesa il paese nel quale Pasquale viveva ed era molto amato. I tanti amici hanno voluto lasciargli sulla sua pagina Facebook messaggi di cordoglio e di addio ricordando al tempo stesso i suoi sorrisi e la sua innata allegria. Molti si sono stretti attorno alla sua famiglia e alla fidanzata Michela. Lei e Pasquale avrebbero voluto sposarsi un giorno ma il sogno è stato bruscamente interrotto in una tragica notte. Ci occupiamo ora della GAM. Il Movimento Area Matese interviene sul piano di rilancio nel quale è previsto un investimento della regione di 36 milioni di euro e la realizzazione di un nuovo macello per lavorare almeno inizialmente 120.000 poli a settimana. Ciò che destra più di qualche dubbio ha sottolineato il portavoce Alfonso Mainelli è la decisione di costruire un nuovo macello, nonché il facile entusiasmo sulla vendita del prodotto garantita da un impegno all'acquisizione gravante sulla centrale delle cooperative. In realtà si poteva e si doveva redigere un piano serio per la realizzazione del polo agroalimentare del Molise e sussistevano le oggettive condizioni di mantenimento dei livelli occupazionali. Ha poi concluso. Sindacati e comitati puntano il dito contro il programma operativo approvato dal commissario Frattura per la CGL e la UIL sono previsti tagli inaccettabili agli ospedali pubblici. Sentiamo. Comitati infuriati e pronti a rivolgersi alla magistratura, sindacati che puntano il dito contro il presidente commissario alla sanità Paolo Frattura. Ha scontentato tutti l'approvazione del programma operativo 2013-2015 che riorganizza il sistema sanitario molisano. Ancora taglia gli ospedali e quel tetto del 37% privati che ha mandato su tutte le furie molte associazioni nate in difesa della sanità pubblica. Il taglio delle spese previsto dal nuovo programma operativo sanitario, tuonano dalla FP CGL Susanna Pastorino e dalla UIL FPL Tecla Boccardo, avrà come unico effetto la diminuzione fino al suo annientamento dei servizi pubblici, in particolare in Basso Molise e ad Agnone. Ed è proprio dalla cittadina alto molisana che lancia il suonatema l'ex vice sindaco Nunzia Zarlenga che invita il primo cittadino Carosella e gli altri sindaci dell'area a rassegnare le dimissioni in segno di protesta. Quello che Frattura chiama riordino della sanità si sfoga in una lettera aperta inviata al numero 1 di Palazzo Vitale, altro non è che la sentenza di morte di un intero territorio. Anche a Venafro il comitato pro Santissimo Rosario non abbassa la guardia. Domani sera ci sarà una fiaccolata davanti all'ospedale, copione simile all'Arinom. Qui sono i sindaci a fare le barricate con un sit-in di protesta che si svolgerà domani pomeriggio davanti al Vietri. Il Movimento regionale del guerriero Sannite invece, oltre a solidarizzare con gli comitati, chiede le dimissioni degli assessori che non condividono le posizioni di Frattura. Questo rappresenterebbe un atto di coerenza verso la comunità territoriale, accusa Giovanni Muccio. Insomma, se il programma operativo ha fatto scendere improvvisamente il suo livello di popolarità, Frattura spera di riuscire almeno ad accontentare le richieste del tavolo tecnico interministeriale e scongiurare il peggio. Un patto tra produttori per socializzare quelle imprese e rilanciarle sul mercato con il modulo delle cooperative. La proposta dell'assessore regionale Michele Petraroia per la ripresa economica. Sollecito ha dichiarato l'assessore un'azione concreta e non i proclami ingannevoli per sottoscrivere con il governo il rilancio del distretto produttivo Boiano-Isernia-Venafro. Se saremo in grado di firmare con Roma un patto per il lavoro con uno stanziamento mirato alla soluzione delle crisi aziendali per 150-200 milioni di euro, sarà più agevole garantire la riassunzione dei lavoratori e tutelare il loro reddito in futuro, ha concluso l'assessore. Come abbiamo sentito in collegamento telefonico da Federico Cosenza, Termoli prima domenica estiva, spiagge prese d'assalto visto il gran caldo per i bagnatori. Sarà una stagione dura vista la crisi e i lavori in corso sul lungomare, ma c'è ottimismo per questa stagione 2014. Sentiamo. Nel weekend decisivo per capire chi sarà il sindaco di Termoli, in Basso Molise è arrivato il primo grande caldo e così spiagge e lidi sono stati prese d'assedio da residenti turisti in molisani, che hanno approfittato del tempo per fare una gita fuori porta sulla costa. Dalla prima mattinata di oggi un vero e proprio assalto di bagnanti si è riversato sui due litorali di Termoli, complice il clima ideale di questo weekend. Tantissimi giovani, adulti, famiglie con bimbi hanno affollato anche la spiaggia libera, fin sotto il castello a ridosso della passeggiata che costeggia le mura. Con un clima davvero invitante è scattata in Basso Molise la stagione estiva 2014. Ora mancano solo i turisti che, come prevedibile, arriveranno principalmente nei mesi di luglio e agosto. Fare un bilancio di come sarà questa stagione è davvero difficile. Molto, infatti, dipenderà dalle condizioni atmosferiche. Ma non solo. A spaventare i proprietari dei vari lidi, infatti, sono due fattori. La crisi economica e il cantiere sul lungomare. Nonostante la prima, infatti, la maggior parte degli stabilimenti non registra una diminuzione ingente di prenotazioni rispetto allo scorso anno. Ma come era prevedibile, dei cali ci sono stati. Per quanto riguarda i lavori sul lungomare, gran parte dei balneatori si aspettava una conclusione dei lavori prima della stagione estiva, perché i lavori in corso sono sicuramente un notevole intralcio. Ma nonostante tutte le problematiche, la stagione estiva 2014 è partita. L'augurio è che possa essere proficua in maniera tale da rilanciare una delle economie principali di cui vive la costa, cioè il turismo. La Regione ha dimenticato la pezzata di Capracotta, considerata una delle dieci sagre più caratteristiche d'Italia. Questa l'accusa mossa dalla Proloco di Capracotta, che ha puntato il dito contro il governo di Palazzo Vitale, che quest'anno, a suo dire, ha ripartito i fondi per le attività turistiche e promozionali, utilizzando una sorta di manuale Cencelli, una ripartizione a pioggia di denaro pubblico, che quasi nulla ha a che fare con le iniziative che da anni si portano avanti e che hanno fatto conoscere il nostro Molise al di là dei confini regionali, ha sottolineato il presidente della Proloco, Tiziana Rosignoli. Sono pochissime le iniziative di rilievo che vengono finanziate, per il resto si tratta di contentini elargiti a enti e associazioni, ha concluso. Subisce danni dal Comune, fa causa, ma dopo quattro anni la giustizia ancora non fa il suo corso. Michele Lombardi si incatena per protestare contro Palazzo San Francesco e il Tribunale di Isernia. Vediamo. Michele Lombardi, l'ex brigadiere ormai noto per le sue proteste contro la giustizia pentra, per la cavalcata capitolina in sella alla sua furia, continua a far sentire la propria voce per l'ennesima volta contro una giustizia lumaca, contro il Tribunale di Isernia, che ha rinviato ancora una delle tante cause da lui intentate contro il Comune di Isernia. Michele Lombardi parla di false testimonianze di rinvii studiati ad hoc contro la sua persona. L'ex brigadiere nel 2010 si rivolge alla magistratura per essere ripagato dei danni subiti alla sua abitazione per un malfunzionamento di una fogna. Era il 10 novembre 2010, quando a seguito di un violento temporale una fogna del centro storico di Isernia esplode tutta l'acqua lurida in onde e danneggia la cantina di casa, causando 20-25 mila euro di danni circa. Soldi che il signor Lombardi a distanza di Aine di rinvia ancora, semmai il giudice accoglierà il suo ricorso, non ha ricevuto. Per l'ennesima volta hanno rinviato di nuovo la causa contro il Comune di Isernia a settembre, vendita in settembre. E' passata di mano di 4-5 magistrati, non si vede la via di risolvere il problema. Vogliono vincere le cause con la falsa testimonianza, ne ho provato, ho messo a corrente la procura di Isernia, nonché quella di Bari. La procura di Bari si sta interessando, ha delegato l'investigativa dei terrabinieri, per vedere le cose come stanno. Io ho prodotto tutta una serie di documentazione dei danni che ho subito da questo tribunale. Involontariamente, non lo so, certo che io sto difendendo i miei diritti sacrosandi, è logicamente quello che pretendo che venga fatta giustizia, la verità, e dovrebbe venire fuori. Domani a Riccia, alle ore 18, si terrà il primo Consiglio Comunale della nuova amministrazione guidata da Micaela Fanelli, eletta per il secondo mandato consecutivo alla carica di Sindaco, con quasi 3.000 voti e con il 90% di consensi. Si partirà con l'esame delle condizioni di candidabilità, elegibilità e compatibilità del Sindaco eletto, direttamente e dei consiglieri comunali. Successivamente il giuramento, l'ultimo ordine del giorno, è inerente all'elezione della Commissione elettorale comunale. La crisi in Ucraina è stata al centro delle riflessioni della settima Marcia della Pace che si è svolta stamattina da Campobasso e Matrice. Vediamo. È stata dedicata ad Andrea Rocchetti, il giovane reporter italiano ucciso in Ucraina, la settima edizione della Marcia della Pace, che stamattina è partita dalla Chiesa del Sacro Cuore di Campobasso e si è snodata fino alla Chiesa di Santa Maria della strada di Matrice, lungo il tratturo. Al centro dell'iniziativa, le riflessioni sulla crisi in Ucraina, paese sul quale c'è l'attenzione dei principali paesi del mondo e dal quale si potrebbe innescare un nuovo focolaio di guerra. Tensioni che potrebbero aumentare dopo l'insediamento del nuovo presidente filo-occidentale Poroshenko che a fine giugno firmerà a Bruxelles l'accordo con l'Europa, ma questo potrebbe indispettire la Russia. In effetti c'è la guerra dappertutto. In Italia c'è la guerra determinata dall'assenza sui temi grossi della società come il lavoro, il welfare da parte delle classi dirigenti. Nella vicina Ucraina c'è un fronte molto pericoloso di conflitto bellico. Di conseguenza, per un verso, la società senza lavoro, che genera conflitti e antagonismi molto pericolosi. Dall'altra parte c'è la guerra, il commercio delle armi che dovrebbe essere bandito da una società civile. Noi siamo qui per questa ragione, insieme a tante altre esperienze che si stanno facendo, però vogliamo testimoniare questo gruppo di associazioni, questa nostra attenzione continua verso questo tema. Io sono kurdo e dal Kurdistan è stata sempre la guerra continua e nessuno vede. Proprio ieri hanno ucciso due persone normali manifestanti che non vogliono la guerra e hanno ucciso. E per questo motivo vogliamo partecipare a questa marcia anche da lontano, perché la guerra non arriva qua con le armi, ma economicamente e psicologicamente arrivano qui. Non vogliamo la guerra. Numerose le associazioni che hanno partecipato alla Marcia per la Pace di Campobasso, fra queste anche l'Unione degli Studenti. Oggi è dedicato all'Ucraina, perché in Ucraina ci sono state delle situazioni per la quale ci sono da creare dei conflitti quando in realtà si tratta semplicemente di mero imperialismo da parte della Russia, secondo me, e bisogna lottare anche dai nostri stessi paesi, dai nostri stessi città per cercare di fermare questo conflitto che si sta venendo a creare. Cambiamo argomento. Successo per la finalissima di iTalent, il concorso televisivo dedicato ai giovani talenti molissani, andato in onda ieri sera in prima serata su Molise TV. Una ricetta vincente sulla quale l'editore Federico Mandato ha voluto scommettere per il secondo anno consecutivo. Vediamo. Il vincitore assoluto della seconda edizione di iTalent è Alessia Notaro. Il vincitore assoluto della seconda edizione di iTalent. Riuscendo a mettere d'accordo giuriette le voto, la 14enne Alessia Notaro ha vinto la seconda edizione di iTalent. Una serata emozionante che ha visto tutti i 20 finalisti esibirsi in uno spettacolo ricco e variegato che ha concluso un percorso iniziato lo scorso mese di ottobre e che ora continuerà grazie al tour estivo. Dopo l'ottimo risultato della prima edizione, la seconda ha visto triplicato il numero dei concorrenti e confermato l'ottimo indice di ascolti. Una seconda scommessa vinta dall'editore Federico Mandato, da sempre attento alle giovani generazioni e pronto a dar loro una vetrina e l'opportunità di farsi conoscere, non solo all'interno della trasmissione, ma anche grazie alle varie tappe, nelle principali piazze molisane che ci saranno questa estate. Un gruppo di esperti molisani ha tenuto un seminario riflettente le più importanti opere che nascono dietro le città di Isernia. Uno sguardo quindi è stato rivolto sulle bellezze storico-archeologiche della città Pentra. Vediamo. L'istituto scolastico Vincenzo Cuoco di Isernia ha tenuto un incontro interessante riguardo le bellezze che si celano nell'Isernia sotterranea. Un gruppo di esperti molisani, partecipi del convegno, ha illustrato le importanti opere romane nascoste nel capoluco Pentro. Un'attenzione dunque puntata sulle cisterne romane Isernia, attraverso la scoperta e la valorizzazione. Abbiamo previsto per l'occasione un progetto che prevede l'apertura di un tratto significativo ma esemplare di queste cisterne. L'ingresso è previsto all'interno di Vico d'Afflitto per poi uscire in Vico San Felice. Quindi è una quarantina di metri questo tratto, però è abbastanza significativo per quanto riguarda l'impianto delle cisterne sotterranei. Naturalmente vanno ripulite, naturalmente vanno illuminate, però l'idea è quella di lavorare insieme all'amministrazione comunale del Liceo Classico, di lavorare in vista dell'apertura possibile nell'arco di un annetto. Quindi abbiamo avuto la disponibilità da parte dei diretti interessati, dei proprietari in quanto sono tutte private e quindi questo ci fa ben sperare per l'apertura nell'arco di un anno. Nel corso del dibattito uno dei relatori, Gianfranco De Benedittis, docente presso l'Università degli Studi del Molise, ha fornito una relazione dando particolare attenzione soprattutto ai giovani che hanno voglia di scoprire le particolarità e l'importanza sulle bellezze storico-archeologico della città a Pentra. Noi i morisani abbiamo sempre guardato all'esterno, ma ci siamo dimenticati della nostra storia ed è stato un grave errore perché noi abbiamo una bella storia da raccontare, forse molto migliore di tante altre regioni. Purtroppo diciamo che per le circostanze, un costume disattento al passato ci ha determinato queste carenze, però bisognerebbe soprattutto nel corso dei giovani insegnare a conoscere la propria storia, la storia del territorio, perché solo così si va avanti. Musica, spettacoli, arte e artigianato hanno popolato la villa comunale di Campobasso all'interno della manifestazione Sunday Life organizzata dall'associazione Molistart. Vediamo. Esposizioni di artigianato artistico, fotografia, lettura, animali, degustazioni e musica protagonisti dell'iniziativa messa in campo da Molistart, l'associazione composta da giovani professionisti molisani con l'obiettivo di riscoprire e valorizzare il territorio attraverso l'organizzazione di eventi di vario genere. Innanzitutto quello che ha spinto tutte le associazioni che fanno parte del comitato è stato proprio fare qualcosa di positivo, di spontaneo e volontario per questo parco che secondo noi rappresenta il polmone verde della città e potrebbe essere, come vogliamo dimostrare oggi, anche una fonte e una risorsa economica per la città di Campobasso. Quindi ci spiace che negli anni è stato un po' tralasciato soprattutto a causa degli orari e della chiusura domenicale nei festivi. Oggi abbiamo dato una risposta attraverso anche per fortuna una collaborazione da parte dell'amministrazione che ci auguriamo in futuro sia sempre maggiore. Quindi abbiamo la possibilità di far vedere che si può fare qualunque tipo di attività in una villa, quindi ci saranno anche letture di poesie, ci sarà della musica, ci sono degli stand artistici, c'è la possibilità di degustare dei prodotti tipici. Cornice di questo terzo appuntamento la suggestiva Villa de Capo a Campobasso che ha ospitato i vari stand. Un'occasione per stare insieme alla famiglia e all'aria aperta accolta positivamente da grandi e piccini. Come hai trovato l'iniziativa? Eh, come l'ho trovato? Ho visto insomma un movimento e mi hanno fatto pulire una camminata. Bellissima iniziativa anche perché attualmente abbiamo una città priva di queste iniziative, quindi è da ripetere, è da rivisitare, ottimo. Sarà celebrato domani il bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Alla cerimonia che si svolgerà la Caserma Frate, sede del Comando Legione Carabinieri Molise della Scuola Lievi di Campobasso, parteciperanno autorità militari e civili. Nel corso della cerimonia saranno resi gli onori a tutti i caduti dell'Arma e saranno consegnati riconoscimenti al personale dell'Arma che si è distinto. Cambiamo argomento. Il fenomeno del randaggismo sta aumentando in maniera esponenziale. Solo pochi comuni in provincia di Sernia hanno adottato cautele per arginare l'emergenza. Alla luce dei fatti, nei giorni scorsi nel comune di Cogli al Volturno è accaduto un fatto increscioso. Sentiamo. Persiste il fenomeno del randaggismo nel Molise, in particolar modo del comune di Cogli al Volturno che con il passare dei mesi sta assumendo dimensioni tali da diventare una vera e propria emergenza per la sicurezza dei cittadini. Un fenomeno proporzionato a quello dell'abbandono e non si hanno misure tali da poter arginare l'emergenza. Non a caso un fatto ingrescioso è accaduto nei giorni scorsi. Un cane, pastore tedesco, precedentemente abbandonato e dunque lasciato in libertà per le zone del paese ha azzannato una piccola cagnetta che è morta dopo quattro giorni di agonia. Già altre volte il cane meticcio era stato colpito dal pastore tedesco riportando però ferite di lievi entità mentre questa volta non ha avuto scampo. Lucia Bucci, padrone della cagnetta di nome Pallina, subito dopo l'accaduto ha allertato il veterinario che ha sottoposto l'animale ad un intervento chirurgico e ha sporto denuncia presso il comando dei carabinieri di Cogli al Volturno una denuncia che non ha avuto il suo affetto tanto da rivolgersi in seguito ad un legale per ottenere un risarcimento danni. Dico a tutti i signori sindaci che il randagismo va combattuto perché così non è giusto con la sterilizzazione e con tutto perché l'episodio che è accaduto è grave e come è accaduto possono accadere pure altre cose ancora più gravi possono accadere pure i bambini questi cani randaggi non è solo animali ma pure i bambini. In merito alla questione è intervenuto il sindaco Giovanni Visco che in quanto tale è tenuto la custodia dei cani vaganti sul territorio comunale è a ricovero degli stessi in canili collocati nei comuni limitrofi inoltre fa sapere il sindaco che una volta ritrovato il proprietario del cane verrà punito con le previste sanzioni. Abbiamo cercato il più possibile di intervenire sapendo anche dove su per giù era questo animale però ogni volta che abbiamo chiamato ad intervenire gli accalappiacani purtroppo non c'è stato modo di poterlo trovare e poterlo reperire tuttora oggi infatti questo è un cane che è sparito adesso attualmente dal paese non sappiamo bene dove sia stato ubicato. Se noi riusciamo a individuare e a prenderlo innanzitutto se il cane è un cane cippato così come normalmente lo sono quasi tutti quanti gli animali della zona perché abbiamo fatto questa operazione di cippatura gratuita più di una volta nel paese stesso verrà individuato il proprietario e il proprietario verrà multato. Se è un cane invece che risulta randaggio appunto non appartenere a nessuna persona vorrà dire che si faranno le indagini per vedere se comunque sia è detenuto da qualcuno in particolare e in questo caso anche questa persona sarà perseguita a norma di legge ed il cane se non viene adottato, se non viene sistemato sarà inviato presso il canile con il quale siamo attualmente consorziati. Bene, con questo è tutto grazie per averci seguito vi lascio ora alle previsioni del tempo arrivederci Il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso Le previsioni del tempo per lunedì 9 giugno Un anticiclone ben strutturato garantisce una nuova giornata soleggiata temperature in generale stabili o in ulteriore lieve rialzo nei valori massimi con estremi di 20 gradi e punte di 29-30 gradi sulle pianure interne più fresco lungo i litorali grazie a venti moderati settentrionali che continueranno a spirare ventilazione da nord-est in quota mari poco mossi Le temperature previste Campobasso minima 18, massima 26 Isernia minima 16, massima 25 a termoli temperature comprese tra i 20 e i 24 gradi Il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso Il meteo è stato offerto da